Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e questo video sarà un video molto breve in cui voglio semplicemente dirvi, mostrarvi i giochi che ho comprato in occasione del Black Friday sul sito dungeondice.it. In questi giorni, in questo momento, il Black Friday è, credo domani, se pubblico questo video domani, oggi adesso è mercoledì mentre lo sto registrando, lo pubblicherò credo domani, giovedì, quindi insomma siamo proprio appunto vicinissimi al Black Friday, ma è da tutta la settimana che molti siti fanno offerte, insomma lo sapete, e anche molti siti appunto di vendita di giochi praticano delle offerte interessanti e sul sito dungeondice, con il quale peraltro abbiamo anche un accordo di affiliazione, come sapete qui sul canale, ho trovato delle offerte interessanti riguardo a dei giochi che mi incuriosivano da un bel po', quindi guardate. Anzitutto mi sono appropriato di questo gioco Ishtar, i giardini di Babilonia, di Bruno Catala e Evan Singh, posto che si dica così. Ishtar è un gioco di piazzamento tessere, ambientato appunto nell'antica Babilonia, in cui fondamentalmente i giocatori sono chiamati a costruire i giardini più prestigiosi, ed è un gioco che mi ha sempre, l'ho visto esposto recentemente anche all'ultimo Play Festival del gioco di Modena, ha delle componenti anche carine da vedere, quindi sono molto curioso. Poi Bruno Catala ha un curriculum molto importante, quindi ecco ha avuto giudizi anche i lusinghieri, quindi in futuro naturalmente avremo modo di parlarne qui sul canale. L'altro gioco di cui mi sono appropriato è Iwari di Gate on Games, Thundergriff Games. Thundergriff Games è il produttore diciamo internazionale e invece Gate on Games è la ditta che ha curato l'edizione italiana. Ecco, questo gioco mi ha sempre attirato, devo dire la verità, soprattutto per il suo aspetto. È un gioco quasi astratto, diciamo, in cui i giocatori sono chiamati a interpretare queste popolazioni, queste tribù, in un'epoca ancestrale, tribù che cercano di appunto convivere con l'elemento naturale, piegarlo ai propri bisogni. Ha degli elementi in legno sagomati, veramente particolari, ha questo aspetto così anche un po' mistico dal punto di vista della presenza di decorazioni e illustrazioni estremamente evocative. L'autore del gioco si chiama Michael Michael Schacht, non conosco la sua produzione precedente, e questi bellissimi artwork sono di un artista che si chiama Mateus Mitzak. Allora, sono entrambi i giochi che hanno qualche anno sulle spalle, però li ho trovati entrambi appunto in occasione di questo Black Friday al credo 40% 50% di sconto, cioè di entrambi ho pagato 50 euro fondamentalmente, quindi penso di aver fatto un buon affare, diciamo. Ho appena controllato prima di girare questo video se sono ancora disponibili, li ho comprati credo due giorni fa. Allora, Iwari è ancora disponibile in questo momento, però potrebbe non esserlo nel momento in cui pubblico questo video, ma insomma controllate. Ishtar invece già non era più disponibile, almeno nel momento in cui ho controllato, però voi date un'occhiata comunque al sito, magari troverete qualche offerta interessante. Guardate, ho anche approfittato della situazione per comprare questa, che è un'espansione per Newton. Newton è un gioco di selezione delle azioni tramite carte, molto molto interessante, di cui parlerò. È un gioco di Luciani e Mangone, se non ricordo male. Simone, Luciani, Nestero e Mangone. Un gioco della premiata ditta, insomma, Luciani, Mangone, Tascini, quelli lì, insomma, che lavorano, che lavorano appunto, che creano questi giochi, no? Sempre, sempre di grande successo e caratterizzati dalla presenza di un'area controllata, no? Sempre appunto molto interessanti. Anche Newton, di cui dobbiamo ancora parlare, è un gioco molto molto valido, appartenente diciamo a questa serie, potremmo dire. E appunto c'è questa piccola espansione, vedete, non ha neanche una scatola, che si chiama, credo, Grandi Scoperte, e che aggiunge, non so esattamente cosa, ma insomma, lo scopriremo assieme in futuro. Guardate, invece, questa roba qui, la banda dei pinguini, non so assolutamente cosa sia, me l'hanno regalata con questo ordine, non ho idea del perché. Non so se fosse un regalo destinato a tutti, non so se lo regalino appunto a chi spende una certa cifra, ma insomma, mi è arrivato in regalo. Tra l'altro, questo gioco è anche questo di Bruno Català. Bruno Català è Mathieu Lanvin, Nolan Van, e illustrazioni di Remy Tornio, non so assolutamente cosa sia, però non credo lo proverò questo, sinceramente, perché dietro la descrizione dice che è collezione carte, maggioranze, e fin qua tutto bene, ma anche blef. Ecco, i giochi col blef, proprio, sono qualcosa che non mi interessa minimamente, quindi probabilmente lo regalerò a qualcuno, va bene? Comunque, insomma, date un'occhiata alle offerte sui vari siti, appunto, che vendono giochi in questi giorni, in particolare Dungeon Dice, dove ho trovato, appunto, queste e queste offerte, e mi raccomando, usate i nostri link di affiliazione che trovate in descrizione, se volete comprare qualcosa, così aiutate un po' anche la maschera riposta, e io vi ringrazio molto per aver guardato questo video, fatemi sapere i vostri acquisti nei commenti, e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao! 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 Ciao!